Ciao e benvenuto su MacRari, sono Arissi de Lapa. Continuiamo la costruzione della nostra app contatti FileMaker dalle basi. Nella precedente lezione abbiamo visto come impostare un campo pulsante per navigare tramite i vari formati. In questa lezione vediamo come gestire il contenitore foto per associare una foto ai nostri contatti. Clicco sul contatto Arissi Lapa, vado in modifica al formato, dobbiamo riposizionare i campi in modo da avere le foto in questa posizione, seleziono questo campo, ho etichette e campo note, trascino verso il basso e devo semplicemente fare un'operazione di riposizionamento. Qui posso anche ridurre questo. Va bene, foto posizioniamo, aumentiamo la grandezza, qui togliamo l'etichetta, abbiamo il nostro contenitore foto, comando B per entrare in modalità USA e qui possiamo inserire una foto per questo contatto. Se la foto è sul desktop la possiamo trascinare e rilasciare qui per salvarla oppure clicchiamo clic destro, inserisci immagine e scegliamo l'immagine del contatto. Un'altra cosa che vorrei fare qui è di associare lo sfondo a questo sfondo perché non è uniforme e non ho lavorato questa foto prima. Per catturare questo colore vado ad accedere, comando spazio a colorimetro digitale, invio, appare questo, vado a selezionare questo, 226, 223, 223, chiudo, vado in corrispondenza di Google, Google Chrome, inserisco RGB to X e qui posso inserire i miei valori che sono 226, non importa, 223, 223. Il colore X, la codifica X è questa, copio, comando C, vado in corrispondenza della mia app, modifica il formato comando L, in corrispondenza del contenitore che seleziono, vado in aspetto, in grafica, categoria grafica, riempimento, scelgo qui colore a tinta unica e clicco qui e inserisco qui il riempimento, comando V, invio per avere questo riempimento. Posso eventualmente andare ad utilizzare il gradiente e col gradiente posso muovermi e modificare le varie gradazioni, comando V, invio, e qui se muovo questo vedo come viene modificato qui all'interno. Posso eventualmente aggiungere altri colori. Un'altra cosa che mi piacerebbe fare è di adeguare o cambiare il raggio di angolo. Per cambiare il raggio di angolo bisogna andare sul raggio dell'angolo e qui inserisco ad esempio 100, invio per avere qualcosa di rotondo o questa forma. Puoi sperimentare altre forme. Esci dal formato, vado ad esempio in corrispondenza di Chiara, accedo a quest'altra funzionalità di ricerca che non abbiamo visto prima. Quando utilizziamo questa funzionalità di ricerca, cerca all'interno di tutti i campi. Potrebbe essere lento in un database gigantesco, ma in questo non ci sono problemi. Clicc destro, inserisci immagine e qui Chiara Alberti. Vediamo ora come inserire un'icona con all'interno uno script per l'invio di una mail a un contatto. Comando L per andare in formato scheda. Vogliamo inserire in corrispondenza di email un'icona per inviare una mail al contatto in cui siamo. Andiamo in strumenti del formato, clicchiamo su strumenti pulsante, strumento pulsante e disegniamo qui lo spazio per accogliere la nostra icona. Scegliamo un'immagine che suggerisce di inviare la mail. In corrispondenza di azione, scegliamo istruzione singola. Si apre la finestra pulsante azione per quell'icona e qui inseriamo posta. Abbiamo invia posta, tabulazioni per selezionarla, finestra di dialogo attivo. Così non verrà mandata la mail ma potremo visualizzare e inserire delle modifiche. Andiamo su questo pulsante, clicchiamo e possiamo inserire. Questo verrà inviato tramite il nostro client email che abbiamo configurato sul nostro sistema. A possiamo andare a scegliere il destinatario e specificare il nome del campo. Abbiamo un campo che si chiama email che selezioniamo. Doppio clic per selezionare e includere qui all'interno. Oggetto qui non mettiamo niente, facciamo ok e qui ok. Cambia cursore mano sopra il pulsante, selezioniamo e qui chiudiamo. Possiamo andare in corrispondenza di stili, in impostazione e sperimentare vari stili. Questa va bene. Dati, sempre in impostazione. Andiamo in corrispondenza del gruppo campo e qui testo segna posto. Per questo non serve il testo segna posto, bensì perché questo è per lo più per il campo, per una casella. Dobbiamo andare in posizione e in posizione abbiamo testo descrizione. Vogliamo che quando l'utente va sull'icona con il pulsore che appaia la descrizione. Inseriamo qui inviare email o invia email. Esci dal formato e qui quando posizioniamo il cursore su questa icona abbiamo invia email. Potrebbe essere ancora più interessante inserire in questa descrizione il nome della persona o il contatto a cui stiamo inviando la mail. Andiamo in modifica il formato. Selezioniamo prima l'oggetto dell'invio email. Andiamo in corrispondenza di posizione, testa e descrizione. E con questa matita possiamo inserire un calcolo. Specifica calcolo, quando clicchiamo si apre questa finestra e qui possiamo inserire invia email a spazio. Qui per concatenare dobbiamo utilizzare la e-commerciale. Inviare a chi, mettiamo il nome e cognome, nome e-commerciale. Apriamo, chiudiamo le virgolette con all'interno uno spazio e-commerciale di nuovo e cognome. In questo modo, ok, esci dal formato. Se noi andiamo a puntare qui il cursore sull'icona, abbiamo invia email a Chiara Alberti. Se noi andiamo in corrispondenza di Aris, in cerca, abbiamo qui, se punto su questo, abbiamo invia email a Arislapa. Quando clicco sopra, viene generata una mail con l'indirizzo del contatto precompilato. A questo punto abbiamo una funzionalità che è apprezzabile in una app. Possiamo procedere con altre funzionalità. Ci piacerebbe inserire un visualizzatore web, visto che abbiamo l'indirizzo dei vari contatti per vedere sulla mappa dove sono localizzati. Modifica il formato. Comando L. Andiamo a vedere i nostri campi. All'interno dei campi non abbiamo un... Stavo già passando a un'altra funzionalità di visualizzazione del sito web. Ci arriviamo dopo. Per ora ci serve visualizzare l'indirizzo. E per visualizzare l'indirizzo questa la possiamo spostare qui. Abbiamo negli strumenti del formato uno strumento che si chiama strumento visualizzatore web. Visualizza una pagina web su un formato. Clicchiamo questo e andiamo a disegnare qui per l'inserimento del visualizzatore web. Si apre una finestra. Impostazione visualizzazione web. E in questa finestra andiamo a scegliere Google Maps. Scegliere un sito web. E qui possiamo inserire... In indirizzo possiamo scegliere e specificare il nome del campo. Abbiamo un campo dove abbiamo l'indirizzo. Ed è questo. Doppio clic. La città. Selezioniamo qui specifica nome campo. E abbiamo un campo che si chiama città. Regione. Non abbiamo un campo con stato regione. Abbiamo cap. Specifica nome campo. E qui scegliamo il cap. Paese non ce l'abbiamo. Ma visto che tutti i nostri indirizzi siamo sicuri che i nostri contatti sono solo in Italia. Inseriamo Italia. Lasciamo le altre impostazioni come sono. E facciamo ok. Esci dal formato. E andiamo... Si sta caricando la localizzazione di questo indirizzo. E abbiamo la localizzazione. L'unico problema è che non riusciamo a vedere bene all'interno di questa mappa. Questo visualizzatore è troppo piccolo. Questo introduce un altro strumento utile. Vado in modifica al formato. Quell'altro strumento utile. Si chiama strumento di controllo struttura schede. Che è questo. Strumento di controllo struttura schede. E questo ci permetterà di poter visualizzare le informazioni in modo più chiaro e dettagliato. E avendo più spazio. Per fare quello dobbiamo ridimensionare. Dobbiamo riorganizzare i nostri campi. Per la riorganizzazione potrebbe essere necessario spostare questo verso l'alto. Clicco tutto quanto e posiziono questo qui. Ok. Vado a strumento di controllo struttura schede. Clicco. E qui lo disegno. Ora si apre la finestra impostazione controllo struttura schede. Per definire le diverse schede che avremo all'interno della nostra struttura di controllo. La prima scheda inserisco ad esempio info personali, crea o invio. La seconda potrà essere dove sei, invio. E la terza sito web, invio. Ok. Ho tre schede. La cosa che mi rimane da fare qui è di inserire all'interno di queste schede le relative informazioni. Nella scheda dove sei inserirò la mappa. Questo la selezioniamo e posso ridurla un attimino e inserirla. Ok. In info personali andremo ad inserire la foto. Spero sia abbastanza grande. Per la foto potrà aspettare. Seleziono prima questi dati. Deseleziono sesso. Tenendo premuto comando maiuscola sulla tastiera. Ok. E posso trascinare questo qui all'interno. No. Comando Z per rimetterlo dove era prima. Devo ingrandire questo spazio. No. Troppo in là. Ok. Ingrandiamo questo. Ok. Selezioniamo tutti questi elementi e spostiamo qui all'interno. Va bene. Gli altri elementi. Andiamo a selezionare questo e lo posizioniamo. Maiuscola. Clic dentro per deselezionare controllo struttura scheda. E inserisco questo qui. Qui all'interno. Ok. Sembra un po' macchinoso. Ok. Questi li riduco. Seleziono questo. Sposto in corrispondenza di. Allora. Riduco qui. E sposto qui. Copio tutto questo. E inserisco qui all'interno. Ok. Credo di aver inserito tutto. Nel caso potresti collocare in questo spazio degli elementi. Non l'ho fatto. Mi sono dimenticato. In modo da facilitare il processo di inserimento degli elementi all'interno delle schede. Oppure se prevedi già di avere così tante informazioni. Puoi già inserire direttamente le schede. Non aver bisogno di fare tutta questa riorganizzazione. Ora che abbiamo inserito tutti gli elementi. Possiamo qui allargare in questo modo. Perfetto. E qui scendiamo in questo modo. Seleziono navigazione inferiore che non serve e backspace per cancellare. Nel frattempo attivo la sagoma di visualizzazione iPad orizzontale. Così posso vedere se tutti gli elementi ci stanno. E qui posso andare a rifare la mia riorganizzazione. Qui all'interno non posso selezionare come prima e trascinare. Visto che viene selezionato prima la struttura di controllo schede. Posso cliccare però sopra individualmente. Questo. Questo. E spostare qui. Devo deselezionare il visualizzatore. Il controllo struttura schede. Maiuscola premuto. Clicco all'interno. Così ho solo questo selezionato. E trascino verso il basso. Ok. Il cap è qui. Il telefono l'ho lasciato qua sotto. Siamo selezionare questi, 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 questi. Clicco all'interno per deselezionare. Con quegli elementi selezionati possiamo fare allineamento a destra. In questa impostazione organizza e allinea. Andiamo a selezionare questo, 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 questo. Clicco all'interno del controllo struttura schede per deselezionare. E questo devo spostare qui in avanti. Ok. Ok. Seleziono questo e sposto qui in corrispondenza di email. Riseleziono questi. E faccio un allineamento anche qui a destra. Perfetto. Ok. Vado a selezionare questi altri elementi. E li sposto qui in basso come erano prima. Ok. E la foto è questa. Ok. Credo possa andare bene questa. Posso ridimensionare e selezionare di nuovo tutto. Ok. E trascino qui. Se ti viene in mente una modalità più efficiente per questa riorganizzazione. Grazie di farmelo sapere. Credo che qua siamo a posto. Ok. Dove sei possiamo andare a ingrandire questa mappa. Ok. Perfetto. Sito web. Qui dobbiamo inserire un altro visualizzatore. E come puoi notare qui non abbiamo un campo per sito web. Invece di andare in gestisci database da qui come abbiamo visto prima. Oppure dalle altre modalità. Possiamo direttamente andare qui e fare nuovo campo. E inserire qui sito web. è un testo. Ok. E qui possiamo inserire un nostro visualizzatore web. E qui inserisco questo ingrandisco. Qui scelgo di inserire indirizzo web personalizzato. Cancello tutto questo. Faccio qui specifica. E qui inseriamo sito web. Ok. Ok. Contatti sito web l'abbiamo inserito. Per essere più uniformi potresti copiare le dimensioni. Qui sono le dimensioni. Guardare queste dimensioni e copiarle nonché la posizione. E adeguare anche questo a questo in modo che siano uniformi. Info personali sono qui. Andiamo a visualizzare in comando B modalità USA. E qui è organizzato meglio rispetto a prima. Possiamo visualizzare qui le info personali. Dove sei? Abbiamo il caricamento della mappa. E qui abbiamo il sito web. Il sito web non abbiamo nessuna informazione per il sito web. Vado a prendere il sito web e lo inserisco qui. Potrebbe essere meglio un altro punto. Non importa. Inserisco qui. Esci dal formato. E qui il sito web è http.s2. Clicco fuori. Andiamo a vedere se la visualizziamo. Caricamento in corso. E questo è il sito web. Dove sei? Info personali. Rivediamo velocemente come avrei potuto riorganizzare in modo efficiente gli elementi all'interno dello strumento controllo strutture schede. Cancello prima la navigazione inferiore che non servirà. Backspace sulla tastiera. Ridimensiono fino alla sagoma arancione qui sotto. Ok. Mi posiziono all'interno del corpo. Comando A per selezionare tutti gli elementi. Comando X per tagliare. Vado ad attivare lo strumento controllo schede. E disegno qui lo strumento. Fino a qui sotto. Rilascio e inserisco le etichette per le varie schede. Info personali. Invio. Dove sei? Invio. Sito web. Invio. Ok. E attiva la scheda Info personali. Mi posiziono all'interno. Comando V per incollare. Seleziono tutto quanto e trascino all'interno. Così va bene. Deseleziono. Vado a selezionare il visualizzatore web. Comando X. Attivo dove sei. E incollo il visualizzatore web qui all'interno. Ritorno a Info personali. Note non è all'interno della struttura schede. Lo puoi vedere quando attivo dove sei. Si vede ancora note. Dobbiamo riposizionarlo. Qui è all'interno. Posso selezionare struttura schede e ridimensionare. E in questo modo è molto più semplice. E qui posso ridimensionare esattamente come prima. Questa è una modalità comoda per gestire tante informazioni su uno stesso soggetto in modo organizzato. Nella prossima lezione vedremo come poter permettere di gestire le diverse attività per contatti. E sarà anche l'occasione per vedere come funzionano le relazioni tra le tabelle. Perché andremo a creare un'altra tabella. La quale tabella la utilizzeremo la scheda relazione per metterla in relazioni con l'altra. E di vedere le diverse implicazioni. Ti ringrazio per l'attenzione e a presto.